Sì, lo so, dovrei essere a lavorare sull'orario, ma qui a tradimento ho fatto partire un mini-evento a tempo molto limitato che non potevo permettervi di lasciarvi perdere. Intanto la parte più semplice, mettetevi da parte il codice che trovate sulla pagina del sito di Borderlands, questo, e che vi garantirà una bella chiave diamante. Io per inserire queste chiavi e riscattarle vado sempre sul sito shiftagearboxsoftware.com, si accede e poi c'è la sezione riscatto del codice, molto facile. Lo si può fare anche in-game, da una voce del menu, un shift più o meno, la cosa può funzionare allo stesso modo. Questo è il codice per la chiave diamante e quello sopra invece garantisce alcuni elementi estetici, ciondolini, teste e cose del genere. Poi magari vi ridò qualche consiglio per non sprecare la chiave, scegliendo bene, una volta che sei nella stanza. Qui non c'è davvero una super fretta. Avete tempo fino al 27 settembre. Occhio però all'ora che non corrisponde al nostro mezzogiorno, ma alle nostre 9 di mattina. Piccolo suggerimento. Qui dice che il codice può essere riscattato una volta sola per account shift. Beh, se ne può fare più di uno di account. Altro non dico. E adesso veniamo alla ciccia. Fino a domani alle 6 di pomeriggio avrete tempo, e vi assicuro che ci vogliono 15 minuti, per andare a farmare un fucile assalto fantastico, il Beca, che normalmente si può ottenere soltanto una volta per personaggio. Se una volta che ti sei bruciata la sfida di Hammerlock, del caccia leggendaria, che prevede di andare a ammazzare un po' di bestie, ovviamente su vari mondi, basta. Lo tenete a 50, finito. Dovresti in teoria creare un secondo personaggio e rifare tutto. Nel caso non abbiate ancora completato la missione, quindi aspettate fino ad aver raggiunto il livello 72. Diversamente, ove mostro un buon posto per andare a farmare il Beca. Come se l'ha gestita la Gearbox? Ha aggiunto a ciò che possono droppare particolari tipi di nemici, ladri, quelli che hanno in inglese loot davanti, tipicamente sono appunto i Jabber ladri, tipicamente, perché lì stiamo andando. E alle prove d'istinto, guardatevi il video 145 per sapere come attivarle, oppure in generale potete andare su Eden 6, dove sapete che c'è un bel po' di Jabber, oppure nella cisterna della distruzione, dove ci sono alcuni stadi in cui compaiono parecchi Jabber, e giocarvi la fortuna in quel modo lì. Dal video precedente ho mantenuto attivo il livello 10, con il modificatore esplosione da bottino, non so se influisca, male non farà. Allo stesso modo equipaggio lo sluter, il manufatto che aumenta il drop, di nuovo non so se influisca su questo drop speciale, male non dovrebbe fare. Ma, diversamente dall'altro video, ho attivato come evento non il sanguinoso raccolto, ma la vendita dei cartelli, perché secondo me è meglio per vedere sponare il teschio, è generico, a noi serve che sponi magari quel tipo di nemico anche dallo spawn dei cartelli. Per non farvi impazzire è anche giusto ricordare che per poter attivare le prove d'istinto è necessario aver già terminato la storia principale. Devo dire che è impossibile d'accorgersi se il tal nemico è quello giusto, io faccio fuori tutto, poi spazzolo l'area a raccogliere le leggendarie. La mia impressione è che il tipo di nemico giusto compaia più facilmente nelle ultime aree, la seconda e la terza. Comunque i tipi dovresti riconoscerli perché hanno lo zainetto da saccheggiatori. Adesso ho rallentato il video appunto perché andando in stretta di fase su questo jabber incendiario, lì sulla sinistra ne ho acchiappato uno proprio del tipo giusto. E l'abbondanza del drop già fa capire che lì qualche cosina... 43% dà un'abilità d'azione, uè, quando sono in un osso di ferro. Aspetta aspetta che mi sembra di riconoscere quel qualche cosina, si è rivelato essere un triplo drop di becca. Per cui dovrebbe essere abbastanza facile anche ottenere la consacrazione perfetta per il vostro personaggio, qualunque questo personaggio possa essere. Ecco il terzo che secondo me è proprio droppato dal tipo nella sequenza rallentata. Ok, adesso non mi interessa come simulate la morte, l'invasione aliena, trovate quella mezz'ora per andare a farmare quest'arma. Non voglio scuse, nelle prossime, che saranno anche le ultime build, almeno per un po', quelle gioco base, a questo punto non ho mai usato il becca, ma lo farò perché è davvero alla portata di tutti in questo modo. Io non disdegno poi di finire anche la mappa, perché c'è il boss finale che droppa bene, e in particolare il mod fantastico Cosmic Stalker per Flak. Ma con lo sluter sempre qualcosa in più si trova. Belface Zerker e, guardale qui, Recurring Hex. Perfetto! Infine, per non sprecare la chiave di diamante, o le chiavi di diamante, se ne avete tutte più di una col trucchetto dell'account multiplo, beh, intanto si va, se non l'avete mai fatto, sul ponte della Sanctuary, o meglio sotto, in fondo poi c'è una stanza, che porterà una colonnina dove giocarsi la chiave. Avrete 5 minuti, dunque 5 minuti dovete scegliere saggiamente uno scudo, un'arma e un mod granate. Documentatevi, controllate la banca, cos'è che vi manca, e poi, a parità di altre cose, qual è l'oggetto da scegliere? Io andrei, ad esempio, su quelli che sono droppati dai boss della strage guardiani, o strage maliwan, che magari avete difficoltà a completare, armi che vengono come il becca, droppate una volta sola, oltre al becca c'è anche l'ember purge. Nel dubbio, tanto può troppare soltanto chi l'ha aperta, non ha senso andare in split screen o con un compagno. Mettete in pausa il gioco, anche il timer si fermerà, e andate a controllare su Legendary Sheet l'elenco, questa arma è buona, questa è grama, perché ci sono anche delle schifezze, comprese delle viola. Certo, tra le granate viola potete trovare, che so, io non l'ho mai trovate, le Cloning Maddening Tricker. Come arma scelgo il Kick Charger da botte e bottino. Come scudo, almeno peggio, dal mio punto di vista, per quello che ho già, il Plus Ultra. Come granate, le Cloning Hunter Seeker. Occhio, perché alla fine, ci sarà donato, molto casuale, anzi, mica tanto casuale, ormai posso dirlo con certezza, una delle armi che sono in vendita dal distributore di Maurice. Ah, ultima chicca. Se ci andate, potreste trovare alcune di quelle armi, come questa King's Call, gratis, cioè dove costerà 0 dollari acquistarlo. E questa cosa qui, questo regalino, fa sempre parte del mini-evento che scade domani alle 6. Al farming, allora. A risentirci.